la famosa partita a carte Ancora, posso chiedere una cosa a Dino? Certo, Ilaria, vai! Dino, io voglio sapere una cosa adoro giocare a scopo e briscola ci gioco da quando avevo quattro anni con mia nonna vorrei sapere da te se era più forte Berzot come compagno come compare oppure il presidente Pertini insomma, chi ti sembrava più attrezzato? Attrezzato attrezzato ero io No, no, no Ah, ecco, vedi Grandelino No, no, no Certamente tutti i due Berzot era bravo e anche Pertini ha riconosciuto l'errore che ha fatto quindi era bravo Bene, senti Prima che ti abbia aiuto e poi sono...